Scara si prepara ad accogliere l'Italia della palla a mano. Oggi pomeriggio, dalle ore 16, al pala Giovanni Paolo II, gli azzurri sfideranno la Lettonia per la terza giornata del gruppo 8 di qualificazione agli europei di Germania 2024. A distanza di 5 mesi dal tutto esaurito del match contro i campioni olimpici della Francia, il pala sport adriatico tornerà ad ospitare dunque una sfida ufficiale della nazionale. Questa volta la posta in palio è la più alta possibile. L'Italia è obbligata a vincere per aggiudicarsi il terzo posto del girone e per continuare a rincorrere, una qualificazione che le manca dal 1998. La squadra sicuramente ha una grande voglia, è super motivata. Questa volta abbiamo lavorato anche un po' di più perché abbiamo anticipato il ritiro grazie alla sosta del campionato. I giocatori che militano nelle squadre italiane hanno potuto fare un surplus di allenamento e arriviamo ben preparati. Ieri mattina una delegazione di atleti della nazionale ha fatto visita agli istituti comprensivi Pescara 1, Pescara 8 e della scuola elementare 11 febbraio 1944. Tra i convocati della rosa a disposizione di Riccardo Trillini e anche due abruzzesi, il portiere Andrea Colleluori, 23enne di città Sant'Angelo e l'ala sinistra, Tommaso De Angelis, 17enne proveniente dal Campus Italia. I biglietti del match sono in vendita attraverso il circuito Viva Ticket e oggi anche alla pala Giovanni Paolo II. Ingresso libero per tutti i minori di 15 anni e in collaborazione con la Pescara Calcio per tutti i possessori della Fidelity Card Cuore Biancazzurro. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.